Scratch test del vetro Bene amici recensione molto particolare quella di oggi Guardate ho pellicolato praticamente mezza cantinetta Sì perché vi parlo di una taglierina per tagliare pellicole sia posteriori sia anteriori di Rock Space Recensione particolare perché questo è un oggetto che è più pensato per i negozi Per chi vuole offrire il servizio di pellicole Difficilmente un privato magari se la va a comprare se non come me cambia un telefono ogni settimana Ma perché no penso che Rock Space venda a chiunque Tra l'altro ci sono un sacco di pellicole guardate per personalizzare il proprio telefono da un punto di vista posteriore Tra l'altro so che Rock Space sta facendo anche degli accordi con designer per fare delle pellicole veramente cool Ma ovviamente si può pellicolare anche il vetro anteriore Con tre tipi diversi di pellicole queste sono classiche in hidrogel Tra l'altro vanno anche a riparare autonomamente dei micrografi Poi proveremo perché voglio fare uno scratch test Ma anche altri due tipi di pellicole Quelle anti luce blu e quelle matte Tra l'altro pellicola matte che ho installato sul iPhone 12 Pro Max Mentre la pellicola diciamo trasparente che tra l'altro non ha nessun problema a far passare anche il Face ID Ma anche tutte le altre pellicole che ho installato Guardate tranquillamente riconoscono tutti questi telefoni No questo non ce l'ha perché ha l'impronta laterale Questo è uno Xiaomi e non ho detto Xiaomi a caso con la pellicola Carbonio Ma anche il P40 che adesso mi ha sbloccato col volto Ma sto scorciato e faccio leggere l'impronta che viene letta tranquillamente Ecco questi telefoni hanno la pellicola quella trasparente Come vedete le ho installate io e non hanno bolle Non hanno difetti quindi questo vi fa capire quanto sia facile l'installazione Ma il taglio e quanto è smart questa taglierina C'è qua a destra un pannellino di controllo Il software è su base Android Si può andare a cercare per prodotti Quindi le pellicole per telefoni Le pellicole per smartwatch Io sono andato a cercare il mio Garmin Vedete qua di fianco si può andare a scorre velocemente Oppure si può andare a ricercare il marchio Garmin E ci sono anche tutti i Garmin Con anche le immagini dei prodotti E anche pellicole per i terminali POS Ma c'è anche la possibilità di pellicolare la Nintendo Switch Ma torniamo a bomba perché c'è anche la possibilità di fare una ricerca globale del prodotto Avete visto? Ha aggiornato il database perché lei si connette al wifi E il database è incredibilmente sempre aggiornato E vi dicevo qua si può fare la ricerca globale del modello Per esempio Per esempio E anche qua non a caso Cerco il Mi 11 di Xiaomi Eccolo l'ha trovato Guardate Si clicca E dentro poi c'è la possibilità di andare a tagliare le pellicole anteriori Oppure le pellicole per il posteriore Con un'ulteriore scelta Fare lo script protector per un telefono che ha la cover Oppure per un telefono che non ha la cover Perché le coverine vanno a solitamente sopravanzare un pochino il display Quindi il taglio dello screen protector con la cover Sarà un pochino più piccolino rispetto a chi vuole usare il telefono Senza una cover E per la cover posteriore C'è anche la possibilità di ritagliare la pellicola con o senza il blocco fotocamera Vi faccio un esempio Questo è il P40 dove non ho ritagliato il blocco fotocamera O meglio l'ho lasciato fuori per lasciarlo originale E invece questo è il mio S21 Ultra Camo Dove invece ho recuperato e ritagliato anche il blocchetto fotocamera E anche su questo glitterosissimo iPhone 12 Pro Max Poi per tagliare è veramente semplicissimo Ma questo ve lo faccio vedere dopo Vi faccio vedere il software No mi stavo dimenticando una cosa sostanziale Perché ho qua il Mi 11 Ah per far vedere che il database è super aggiornato Mi 11 non è ancora uscito sul mercato Eppure già il database c'è Ma soprattutto per dirvi che Xiaomi ha fatto un accordo con Rock Space Questa taglierina c'è in tutti i Mi Store E le prime 500 persone che scriveranno a Rock Space Avranno diritto a un buono per andare in un Mi Store Quello più vicino alla propria abitazione Per farsi fare una pellicola A gratis Come si vuol dire Gratuitamente Si regalata da Rock Space e Xiaomi Ma tornando indietro C'è questo pulsantino Per sapere quante pellicole abbiamo ancora in casa Ma come fa a sapere il plotter quante pellicole abbiamo Molto semplice Quando si compra una scatola con dentro 50 pellicole Un pack Vedete qua dentro c'è un codice Si gratta via Si inserisce nel plotter Così lui sa quante pellicole abbiamo ancora a disposizione Ma direi di farvi vedere come funziona Taglio la pellicola anteriore per il Mi 11 Prima di tutto si spinge questa leva Si infila qua la pellicola Ci sono i segni per dove posizionarla correttamente Si ritira su Si sceglie lo screen protector Io direi senza cover Quindi questo qua Confermare E parte il taglio E voilà Sta tagliando le parti laterali Devo dire che A è silenziosa B è veloce Perché vedrete in 30 secondi farà il taglio Guardate siamo già oltre alla metà della cover Ha già fatto il forellino per la cam anteriore Voilà la precisione con cui lavoro è fantastica Vi racconto questa cosa Io sono sempre stato affascinato dai plotter Ho iniziato a fare l'architetto Quando c'era il plotter ancora a penna Con i rapidi che facevano esattamente questa cosa Ma ovviamente andavano a disegnare Questa va a tagliare Voilà Ho chiacchierato per intrattenervi in questi 30 secondi Velocissima Step 2 Guardarsi il tutorial Liquidino Puliamo il display È importante pulirlo bene Per non far rimanere granelli di polvere sotto Non sto a far vedere come si pellicola il posteriore Perché la procedura è esattamente la medesima Prendo la pellicola Tolgo la parte esterna Bisogna togliere la parte posteriore centrale Che è già tutto pretagliato Spoggia qua il centro dello schermo Così E voilà Così Si va a installare Senza fare bolle Poi si toglie la protezione superiore Voilà Così Perfetto I bordi Così E poi così E poi anche il bordo dall'altra parte Mi 11 tra l'altro È un telefono che non ho preso a caso Ma ho preso Perché è un telefono molto complicato Essendo stondato su tutti e quattro i lati Poi lateralmente si fa una pressioncina Se rimane qualche bolla non preoccupatevi Perché vanno via poi nel giro di qualche ora Ovviamente non devono essere bolle così Ma le bolle piccole scompaiono E voilà È anche un'applicazione decisamente veloce E semplice da fare Vediamo lo sblocco anche qua sotto al display Sbloccato tranquillamente Perfettamente Telefono pellicolato Ma adesso Vediamo quanto resistono Mi porto via questo che ho pellicolato dietro e davanti Tra l'altro notare Come i telefoni che hanno i bordi piatti Come iPhone Hanno la possibilità di essere pellicolati anche lateralmente Ovviamente non sono cover rugged Anche se un pochino proteggono anche dalle cadute Perché lo spessore Che è circa mezzo millimetro Un po' ammortizza Ma dai graffi Sì quindi Facciamo lo scratch test Sui sassi E anche lui Ecco lui Non avendo protetto le cam Ma diciamo che faccio solo così Non voglio distruggerli Voglio solo provare La resistenza delle cover Che mi sembra Sui sassi Beh decisamente Buona Cemento davanti al palazzo di Arzog e de Meron Uno E Beh qua Facciamo che faccio sempre E solo così Ma mi stavo dimenticandoci Da provare anche la parte Del vetro Questa composizione fa molto natura morta Vediamo se il vetro è vivo Allora Un po' graffiato Ma Gli diamo una Classica pulita Sui jeans E Guardate Beh Qualche segnetto c'è Ma è autorigenerante Vediamo Tra qualche minuto Se Vanno Quasi via Ma c'è l'imbarazzo Della scelta Con tutte queste E potevo non coinvolgere La regina delle cover Ti stavo ammazzando Con una pellicola Perché oggi diventerai La mia regina delle pellicole Ho scelto quella per te Unicorno Glitteroso Mi piace un sacco No veramente Sì No pensavo No dai Cioè pensavo Mi la tirassi dietro No no mi piace Vabbè allora Il tuo XS lo pellicolerò con questa E ti ho coinvolto per avere anche un giudizio femminile su queste pellicole che hanno trasformato un po' i telefoni che ho qua Mentre tu me lo dai Anzi mentre tu studi Vi faccio vedere un'altra cosa Che non bisogna mai lasciare sola una Rock Space Perché si moltiplica Guardate è arrivata la versione XL Scherzi a parte Questo è un prototipo Ma arriverà sul mercato tra un po' E permette di mettere delle pellicole un po' più grandi Per pellicolare altri prodotti Guardate qua C'è già in database qualcosa Se vado per esempio sui computer Trovo i MacBook Pro da 13 Da 15 Ma se vado su Huawei Trovo anche i Matebook da 14 Da 15 pollici E si possono fare ovviamente tutte le pellicole Anche per HP Lenovo Xiaomi Microsoft Eccetera 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 Ovviamente il database essendo aggiornabile in tempo reale Poi quando arriverà sul mercato ci saranno molti altri PC E se vado sui tablet Apple si possono fare le pellicole anche per l'iPad Pro da 12.9 pollici Ma non solo perché Anzi dammi giudizio mentre io qua cerco il tuo telefono Ok allora devo dire una cosa che con queste pellicole hai la sensazione proprio al tatto di un telefono molto più maneggevole Nel senso che perde la Gripposo Gripposo Guarda come grippa No questa qua è grippa di Bruno Perde la scivolosità tipica dei telefoni quando non sono privi di cover Soprattutto questa qua glitterosa che non perde neanche glitter Non perdi glitter e ha un effetto comunque rubido ma anche questa che invece non è glitterosa ed è più liscia Che definirei carta da parati anni 80 Sì ma ancora di moda Sì è tornata di moda Ok Perché poi mi parli sopra? Diteglielo di non parlare Allora visto che hai perso il filo mi riaggancio io e ti dico che Con la possibilità di mettere le pellicole un po' più grandi Purtroppo non le ho perché ripeto ancora un prototipo Ma ci sarebbe la possibilità di pellicolare il tuo XS facendo girare la pellicola anche sui bordi e fare i bordi Perché vedi i 12 che hanno i bordi piatti si possono pellicolare perché Fa proprio queste parti qua Mentre l'XS come il tuo senza la pellicola un pochino più grande si riesce a fare solamente sulla back cover Te la faccio intanto Sì no e quello che invece volevo dire è che questa pellicola anche se non è C'è un'altra opzione Se vuoi il taglio nel logo o meno Cioè il logo lo vuoi vedere o vuoi tutto coperto? No tutto coperto va bene Va a far bagno al logo brava brava Dicevo che anche nel caso della pellicola più passatemi il termine liscia Comunque è un liscio che non è scivoloso Non so come dire Quindi è anche piacevole al tatto e ti dà più compattezza nel gestire il telefono Guarda ti sta dando in tempo reale la pellicola Nel frattempo che lui taglia vi faccio vedere che questa non ha subito praticamente danni al posteriore Andando a screcciare sull'asfalto La parte anteriore Spengo il telefono così magari si vede un po' meglio Qualche graffietto è rimasto Non si è autoregenerata proprio benissimo Ma rispetto a come l'ho fatto a strisciare direi molto bene Unica cosa è che la trovate un po' poco oleofobiche queste qua in diciamo trasparenti Mentre ho trovato molto oleofobica questa matte Non rimangono assolutamente le ditate Anche quella a carbonio guardate ho fatto strisciare qua in fondo Beh devo dire che si è comportata molto bene Ovviamente un filino si è graffiata Però quanto si sarebbe graffiato il telefono senza questa cover Voilà pronta Unicorn phone Ti piace? Che bella Dai c'è il mio camo E si è attaccato il tuo unicorno Vuoi mettere? Vuoi mettere il mio camouflage? Vuoi mettere? Questo non mi viene in mente Le caramelli dolci Le caramelli Inguardabile Allora Quanto costano? Questa attorno ai 500 euro Ma è un discorso un po' particolare Essendo dedicate a rivenditori Ovviamente dipende da che bundle fate Da quante pellicole comprate Anche quanto costano le pellicole Il prezzo unitario è un po' dipendente da quante ne comprate Magari il grossista ne compra 10.000 Avrà un prezzo Magari il piccolo negozietto ne prende 10 Un altro Quindi in descrizione vi lascio il link e la mail A cui chiedere delle informazioni Questa arriverà Quindi non è ancora in commercio Non si è ancora stato definito un prezzo Sai che c'è qualcuno che ha rotto le noci con i telefoni Lato vetro con su queste pellicole Io non ci provo perché Metti che si rompano Però In teoria aumenta anche la resistenza Ma la domanda è Perché? Chiara non avremo le noci Ma le noccioline sì Posso farlo però col tuo Non si è rotto Vai tranquilla Ma sono noccioline Andrea Non è che stai Allora facciamo col tuo che non ha la pellicola? No Proviamo? No È una nocciolina la mano Vai Saluti Ciao Ciao È già finito il video È quasi acceso così Mi sapevo fame Mi sento usano le noccioline Ah non è finito? Oh era già finito? Era già finito Ah allora stai facendo così Posso andare a casa? Certo Ok Ciao Vabbè Meno male che ci lavori tutti Vabbè